You think you know me? Buongiorno buonasera ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo delle tematiche un po' speculatorie e un po' non clamorose però vabbè era l'evento che tutti stavamo aspettando nel senso di cui si parlava tanto in questo periodo per parlarne di ciò ci sono Sara, Dario e Pala Allora partiamo subito con la grande news che era tutto quel coso di crono, cose che si sono fatti le peggio pippe mentali di tutti quanti spoiler era semplicemente la fusione del SEA a noi ecco qui l'annuncio di ormai 5 ore fa Pala descrivicelo in breve visto la chilometricità del loro inglese spaventoso Diciamo anche un dietro le quinte tanto per... allora il SEA ultimamente non stava facendo praticamente quasi introiti il loro unico vantaggio che era praticamente il fatto che costasse meno scioppare era stato tolto, i loro prezzi erano stati allineati ai nostri non avevano il gatto, non avevano il milino, non avevano niente da mesi si stavano tutti lamentando tantissimo e quello che noi abbiamo predetto e detto che avrebbero dovuto farlo da mesi e mesi è che praticamente di portarli da noi o comunque avere la stessa versione nostra per poter fare una patch alla volta invece i due risparmiare i costi e praticamente si tenevano il SEA aperto in coda a noi perché praticamente facevano solo la nostra patch e la davano anche a loro e infatti così faranno non è chiaro se diventano la terza regione della nostra app o si tengono la loro app e semplicemente fanno due versioni in parallelo che credo sarà estremamente disastroso perché tanto capiteranno bug in una e non nell'altra e viceversa come un po' succede da noi quando ci mandano le patch del China che nel China funzionano e non sono bugate quindi immaginiamoci se devono mandare dal China la patch a noi che poi la dobbiamo mandare a sé ma guardate il lato positivo finalmente riassumono Franco che era stato licenziato dopo la pausa della festazione sempre per noccioline immagino vero? vabbè quello non è non lo assumono nessuno, licenziano ah no è vero licenziano no no solo per fare lo spostamento lui mi ha detto solo per spostare e fare danni e poi lo rimandano via è per i bug hai capito? deve inserire il bug del SEA è tu l'esperto effettivamente infatti tutto ciò effettivamente si riduce un po' a quello che ha detto Pala cioè se il client diventerà unico ovvero tutti scaricheranno l'unico client quello che voi giocate normalmente e troveranno A, E ed S oppure se noi rimarremo A ed E e poi su un altro client ci sarà l'S io spero che sia un unico client almeno Franco non impazzirà veramente del tutto altrimenti come ha detto Pala prepariamoci a vedere delle cose abominevoli perché dico questo? perché nell'ultimo nell'ultimi pezzi che ci sono è che ci sarà il mondiale anche con il SEA adesso quindi io mi immagino voi immaginate che arriva il giorno del mondiale e loro già hanno 10 bug noi ne abbiamo 5 gli americani hanno uguale a noi 5 e tutti quanti a fare e quindi come risolviamo? beh sarebbe un po' brutto a questo punto sarebbe comodo fare un unico client e noi siamo tutti con gli stessi bug o con le stesse cose ma lo so vedremo come ha detto Pala per il resto in questo post viene spiegato semplicemente che avranno tutte le cose che abbiamo anche noi aspetta però c'è una cosa particolare quale? Universal Gold League quella di cui parlavi sì tra le quattro maggiori versioni non le tre oh madonna ci aggiungono il China è vero può essere ormai oddio però aspetta questo penso fra un po' perché il China da noi è troppo lontano è molto avanti ci disindagrano già sull'RC su tutti gli RC un sacco di skin in più di Cosmi le alternative sono due una è il China una è il China che è molto più avanti vorrei dire ma l'altra è il cinese cioè il giapponese che sono indietrissimo sono indietrissimo che sono indietrissimo però una cosa stavo pensando però se vuoi fare la Gold League devi equiparare le versioni perché cioè non è che se nella nostra versione non c'è l'ultimo cosmo cinese cos'è ci crasha a noi se ne affrontiamo cioè no infatti però potrebbe essere un prospetto futuro c'è un intento futuro ragazzi ci buttano tutti in una mega arena l'ultimo che resta vivo ha vinto beh è troppo facile per i cinesi in questo caso perché loro sono le parti però questo è nel campo delle speculazioni perché attualmente se noi adesso abbiamo come per certo che tre versioni avranno un'unica patch come detto a Dario avanzano giapponese e cinese ora il Giappa ha dei contenuti diciamo in più di noi tipo i doppiaggi alcune una skin in realtà che è quella di Shura però proprio il funzionamento del gioco è completamente diverso dal nostro io non credo che il Giappa possa mai essere accumulato a noi però lì non hanno i tomi blu per capirci che succede se io scrivo il tomo blu per esempio li Grascia non ce l'hanno proprio il tomo loro come fanno vogliono di invidia vogliono di invidia sì non lo so è particolare come situazione effettivamente per il resto questo a noi del global teoricamente non ci cambia nulla ci daranno il reset dei coupon per il resto dovrebbe rimanere tutto uguale credo forse se accomuno al client si si tengono separati no se tengono separati non posso immaginare che succede ho sinceramente paura che questo gioco rischi per il resto qui diciamo questo quando avverrà più o meno secondo voi perché io so che lì hanno messo una data lo sto facendo vedere ma secondo voi sarà fattibile così cioè io ho capito che il loro obiettivo è far arrivare loro a fare un milì e a fare il gatto però un milì l'hanno zompato no no loro il 25 maggio è l'ultima patch che gli fanno di martedì quindi partiranno a giugno dal 2 giugno saranno con la nostra patch quindi prendono il primo gatto però riescono a farsi il primo gatto di giugno si certo il gatto di giugno sarà quindi schippano diciamo l'ultimo milì questo qui di maggio e poi arrivano direttamente a giugno a gamba tesa ok praticamente per il loro anniversario esatto e io li volevo arrivare e buttandola lì adesso problema del SEA gli manca Dettol ora hanno fatto lo stesso banner infatti lo abbiamo direttamente da qua per tutte e due le versioni ovvero il rate up di tutti gli SS tranne Artemide benissimo tra l'altro hanno anche sbagliato le notifiche strano succede mai perché perché loro come diceva inizieranno a avere le patch dal 2 di giugno come noi quindi il banner dovrà fino al 2 non fino all'1 vabbè dai lì è fuso orario forse qualcosa di sto genere non mi sorprenderebbe però aspettate ma devi arrivare al punto clou adesso voglio provare a fare nostra Darius io io scommetto che quindi il 2 uscirà Dettol di nuovo da loro no e saranno uguali quindi da noi rerun e per loro nuovo la butto lì sì è probabile perché loro manca Dettol non posso stare senza OPG sono la rerun di Dettol sicuro rerun di Dettol e accumulamento di personaggi perché se no loro stanno con un PG in meno cioè voglio dire bruttino come cosa da vedere le reaction incazzate nere vabbè ci sta devo dire che mi aspettavo mi aspettavo di vedere le reaction incazzate invece per adesso le vedo belle tranquille vabbè ma per cosa piuttosto che stare lì a spegnersi sul se stesso sì hai ragione infatti Paula me l'ha messa in maniera carina oggi era meglio era più brutto sentirti dire vi chiudiamo o vi uniamo effettivamente vi uniamo e la soluzione è migliore scusa con la gente che comunque ci ha investito è meglio questo no poi la Ressia non era così vuotissimo di player voglio dire c'era gente ma era vuoto di eventi però io la faccio una domanda tecnicamente se loro vengono uniti al client i loro account verranno copiati devo chiamare Franco eh sì come ha fatto l'ultima volta che c'era da copiare gli account ricarranno gli stessi non li portano mica da nessuna parte cambia soltanto la versione e faranno qualche cosa per collegarli tecnicamente qualche aggiustatina la dovresti dare quando cambi client sul server qualche stringhetta dovrebbe cambiare ma ha risposto Franco vuoi sapere la risposta? assolutamente ma saranno cazzi miei ha detto speravo in qualche notizia di istruzione di mondi è un po' nervoso eh beh poraccio ma aspetto comunque dai questa è la mega notizia questo è l'evento che si sono venduti come peggio cose teorie di ieri scrono ho letto di tutto e di più era questo semplicemente ora speriamo in un buon evento noi domani cioè martedì voi vedete questo video di martedì mentre noi registreremo quello che sarà la patch perché io a questo punto mi aspetto due patch diciamo per tipo il return to player me lo aspetto per giugno a questo punto speriamo qualcosa di carino come event insomma domani per questa fusione cioè è vero che noi ci tocca poco però speriamo qualcosina in game mettano non lo so voi che vi aspettate in questo senso vi aspettate qualcosa oppure secondo voi se ne fregano da noi e basta no al lato nostro non ci non erano nessun risalto alla cosa come il posto non l'hanno neanche fatto dal lato nostro ma dove ci danno i coupon per due sanno che siamo degli sciopponi basta finire tu dici ci limitiamo sempre a questo no no nel senso che cosa vuoi che ti faccia alla fine è una cosa che riguarda loro ci fanno stare cosa di buone e basta io non lo aspetto sinceramente più o meno siamo nei tempi più o meno siamo in quei tempi lì perché è passato un mese ma per concludere di conseguenza essendo che come diceva prima Dario l'anniversario del SEA è vicino per l'anniversario che gli danno di fare previsione quindi mi state dicendo che come previsto anticamente da me il personaggio più figo del gioco verrà messo come PG dell'anniversario del SEA cioè dettolo praticamente Snee perché hai sbattuto hai sbattuto la testa e niente con tutti che ora avranno avranno ogni mese dettolo e poi avranno a metà verso metà fine mese come noi probabilmente è carino ma che bella domanda è di sto banner perché non c'è Artemide questo me lo sono chiesto anch'io sinceramente non l'ho ben capito e c'è un intruso grosso così perché SS SS no la differenza vera è che l'ex è più raro dell'S nel rete momento no perché allora nel banner suo allora tutti gli SS sono 0,16 l'ex in rete è 0,12 a proposito di ciò poi ti sei hai visto se erano uguali se è global come rate no però mi posso dire che nei nostri rate comunque gli SS sono tutti indipendenti quindi teoricamente questo banner ha il rate di SS e ex più alto mai visto e dovrebbe essere 0,92% per pool quindi circa in media il che vuol dire potete trovare niente comunque in media ogni 108 pool dovreste trovare un SS o un ex in media potreste non trovare niente o fare un exclamation di SS però è molto alto diciamo che è il banner più alto di sempre come rate però non vi aspettate troppo perché comunque è una percentuale abbastanza bassa però se non avete ancora fatto lo scambio di 40 normali per 45 temporane e volete farvi un 60 barra 100 pool nel corso della settimana per massimizzare rebate magari shoppare due pacchetti da 10 advanced perché hanno un cooldown di 6 giorni potete incastrarvelo un po' per fare un po' di pool provare la fortuna se avete un po' di risorse extra insomma è una buona occasione per provare a fare SS e o fiucco ci può stare per chi non ce ne ha skillati può essere una buona se vi mancano più poi approfittate per shard funzionerà come tutti gli altri banner in cui sono pgmulti e daranno il selettore quindi anche se vi mancano poche shard come ha detto Pala sfruttate un po' questi trick e vi vete a finire le shard di quel personaggio che vi manca per concludere questo video in attesa della pace di domani vi voglio dare le ultime info per il torneo di fine settimana allora sarà praticamente un jamir perché sono molto contento del riscontro che ha avuto il primo torneo soprattutto fuori avremo player sia francesi che spagnoli che ovviamente italiani quindi penso verrà cassato anche ad accazzo che già io l'ho chiesto quindi per gli spagnoli ci sarà per i francesi sta vedendo mardi dipende se lavora o non lavora quel giorno di conseguenza sarà letteralmente uno scannamento fra balenottere che si menano quindi non perdetevelo 29 e 30 anche perché come per l'ultimo torneo verranno dati premi anche a chi è semplicemente in chat ed è sul nostro discord quindi mi raccomando state attenti comunque usciranno i posti in questi giorni con tutte le varie info nuove per concludere vi dico solo una cosa che non ci azzecca nulla che ho senza perché incastro Dario in questo modo giovedì uscirà il pool su All Might per quanto riguarda Mario Accademia e Dario prepara Frenchi di conseguenza da noi per oggi è tutto e ci vediamo penso il live mercoledì se mi riprendo qualche piccolo problemino così di salute per il resto tutto a posto buona giornata ragazzi ciao 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 ciao